Il Libango Popolare Siciliano di via Vittorio Emanuele III a Lentini apre alle ore 15 e chiude 5 minuti dopo per rapina. E' successo ieri pomeriggio a Lentini. Due banditi, con il volto coperto e armati di taglierini, infatti, all'orario di apertura pomeridiana, si sono introdotti nell'istituto di credito come due comuni clienti, ma improvvisamente, sotto la minaccia di un taglierino, hanno intimato al cassiere di consegnere i soldi che aveva in cassa e dopo avere arraffato il bottino, ammontanti a circa 11.000 euro, sono usciti dall'istituto di credito riuscendo a fare perdere le tracce. Non si esclude che ha di attenderli all'esterno della banca, ci fossero altri due loro complici. Scattato l'allarme, sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. Nel giro di pochi mesi è il terzo colpo che viene piazzato ai danni del Banco Popolare Siciliano e gli investigatori non escludono che ha di agire, sia sempre la stessa banda, considerato che la tecnica messa a punto dai banditi è sempre la stessa.